Questo è un continuo girovagare nel Salento andando a scoprire appunto posti bellissimi con, che ne so, abbiamo conosciuto Castro, abbiamo conosciuto Porto Selvaggio, abbiamo conosciuto Otranto, lo dico, vabbè, non male insomma se siamo tutti salentini, fino a il secondo trofeo ciclo bike, applauso applauso a questi atleti che stanno per entrare in gara applausi, fatele sentire queste mani importante che sia di incoraggiamento e di sostegno appunto a tutti coloro che si spenderanno in questo evento sportivo, in questa gara, eccoli qua coloratissimi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Simone, vai Vai Simone Stagli, bomba, stagli Stagli, guarda, guarda, guarda Vai, vai, vai Annazzi, stop, annazzi Vai, vai Vai, salvatore Vai, salvatore Vai, salvatore